Pierpaolo Pretelli cede nuovamente alle lacrime al GFV, in sauna piange, a Cristiano Malgiogli e Andrea Zelletta che lo ascoltano svela, ho un blocco con le donne. Dopo la fine dell'amore con Ariadna Romero, da cui ha avuto il figlio Leonardo, tre anni, l'ex velino trentenne non riesce più a innamorarsi. Con Elisabetta Gregoraci ho provato cose che si provano all'inizio, quando però inizio ad avere un rapporto più intenso mi blocco, c'è un punto in cui non riesco ad andare avanti. La cosa con Elisabetta non è proprio partita, ma fuori, da quando sono single da due anni e mezzo, ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco. Pierpaolo non si dà pace, io sono sempre stato fidanzato e vedermi single da due anni e mezzo mi fa pensare che ho dei problemi da risolvere. Forse sono distruttivo per la coppia, io sono uno che dà tanto, ma allo stesso tempo sono pesante.